E ritorniamo insieme in diretta dagli studi di Padre Pio TV a San Giovanni Rotondo. Come vi accennavo in apertura, oggi una puntata che dedicheremo anche alla salute, nel bene e nel male, perché stiamo per tornare a parlare di sana alimentazione, ma poi nel collegamento successivo parleremo anche di alcol e istruzioni per l'uso e per gli abusi. Ma ritorniamo a questo momento e io lancio la sigla della salute Vien Mangiando perché è qui con noi il dottor Salvatore Cusenza. E allora sono felice di accogliere in studio stamattina il dottor Salvatore Cusenza, specialista in scienza dell'alimentazione. Con lui già alcuni mesi fa abbiamo intrapreso il percorso di consapevolezza per un'alimentazione più sana facendo un focus in maniera particolare sul mondo delle diete, un mondo così chiacchierato, dibattuto, a volte ricco di falsi miti, per cui siamo felici di avere la sua disponibilità per poter fare chiarezza su questi argomenti. Buongiorno dottor Cusenza, ben trovato. Buongiorno a tutti e ben ritrovato a te. Grazie, grazie per la tua disponibilità ad affrontare questi temi di cui si fa sempre più parlare, però ecco tante volte succede proprio questo, che più se ne parla paradossalmente e meno se ne ha consapevolezza, anche perché sul mondo di internet, dei social in particolare, molte volte si rincorrono anche tante notizie non particolarmente fondate su basi scientifiche. Sei d'accordo o sto esagerando? Se sto esagerando, dimmi. Allora, la verità è che purtroppo negli ultimi 50 anni il sovrappeso e l'obesità è aumentato a dismisura. C'è una stima che parla addirittura del 20% della popolazione mondiale che è sovrappeso obese, quindi la popolazione mondiale di circa 8 miliardi, il 20%, parliamo di 1 miliardo e 6, 1 miliardo e mezzo, di persone sovrappese obese. Siccome non esiste la pillola magica per eliminare il peso, escono ogni tanto fuori sui social nuove diete dimagranti, nuovi prodotti dimagranti, ma in realtà prodotti dimagranti non esistono, tranne qualche droga che accelera il metabolismo, ma sono droghe. Ultimamente sta uscendo fuori qualche farmaco per il diabete che se ne usa e abusa per altre cose. Quindi facilmente il mito di perdere peso velocemente fa sì che vengono fuori dei falsi miti come dicevi tu e la gente crede perché a fare sacrifici non è disposto nessuno, ad avere risultati subito in modo veloce vorrebbero tutti, ma così purtroppo non è perché il corpo umano è una macchina precisa e funziona in modo biochimico e fisiologicamente in un certo modo, quindi non si può, a meno che non si usano dei farmaci come il doping accelera alcuni processi di dimagrimento. Ecco, è importante quello che ci sta dicendo dottore perché la salute è un impegno che dobbiamo prenderci, un impegno quotidiano che poi del resto è un favore che facciamo noi stessi, per cui dovrebbe essere un impegno sentito quasi spontaneo e che va su questo doppio binario della sana alimentazione e della vita attiva. Stiamo vedendo qualche immagine mentre stiamo discorrendo di quanto sia importante associare ad una sana alimentazione anche una certa proattività. Lo confermi? Esattamente, è proprio così perché noi abbiamo un grosso dono, la vita, però bisogna saperla gestire e custodire la salute perché fin quando stiamo bene possiamo prevenire. La prevenzione si fa a tavola e facendo un po' di attività sportiva che non significa per forza andare in una palestra, andare in una piscina, ma anche due o tre volte a settimana di camminata veloce per esempio, delle lunghe passeggiate in mezzo alla natura, una volta che si inizia ad avere un piccolo problema di salute non è più una prevenzione ma è una cura, quindi poi lì bisogna capire che bisogna sempre usare l'integratore e il farmaco per stare in un certo equilibrio con la vita. Quindi io dico sempre fin quanto ce l'abbiamo la salute e ce l'abbiamo facciamo la prevenzione, la prevenzione significa rinunciare a qualcosa, però ci allunga la vita perché una volta che iniziamo a prendere un farmaco siamo malati e quindi poi iniziamo a fare delle cure, quindi una buona alimentazione fatta da chi è del settore, non fatta seguendo i social, le estremizzazioni, tolgo i carboidrati, mangio solo le proteine, più un po' di attività sportiva, anche 2-3 ore a settimana, ci allungano la vita e tutti gli studi epidemiologici dimostrano questo. Parlano in questo senso, ieri durante la puntata del programma d'approfondimento, la regola della sostenibilità, che va in onda ogni lunedì dalle 10.30 alle 11.30 con Fra Italo Sant'Agostino, parlavamo con un'altra dei nostri ospiti di quanto sia importante favorire quelle piccole abitudini quotidiane come il camminare, riducendo per esempio l'utilizzo dell'auto. Utilizziamo l'auto adesso per fare qualsiasi cosa, quando anche quei pochi passi che potremmo fare per andare a fare la spesa, per andare in chiesa piuttosto che per andare a fare qualsiasi altro servizio possono aiutarci a tenerci più dinamici e più attivi. Che cosa capita però? Ecco, per esempio, penso a quando faccio io qualche attività sportiva, qualche camminata lunga, scatta poi l'esigenza di uno spuntino, di una merenda. Ecco, la merenda quanto può essere, come dire, un fattore di rischio e come andrebbe gestita, quali sono le cose che potremmo utilizzare per non farci del male? Esatto. Allora, questa è una giusta osservazione perché molti, quando dopo una piccola attività sportiva, rientrano a casa e mangiano qualcosa. Praticamente quello che è stato consumato è stato subito ripreso, ma mentalmente il meccanismo di ho consumato, posso mangiare qualcosa e ti fa anche esagerare, quindi molte volte lo spuntino è superiore a quello che abbiamo consumato. La scienza dice un'altra cosa però, dopo l'attività sportiva bisognerebbe aspettare un'ora, un'ora e mezzo per far sì che quello, lo sport fatto, le calorie bruciate vadano ad agire sul corpo in modo più efficace perché in quell'ora, un'ora e mezza dopo l'allenamento, il corpo va a bruciare grasso. Se noi gli diamo subito lo spuntino dopo allenamento, abbiamo bloccato quel meccanismo brucia grassi. Quindi molte volte fare lo spuntino viene fatto male e in modo esagerato. Quindi tu ci consigli, dovremmo solo idratarci, soltanto bere? No, sicuramente uno spuntino va fatto, ma aspettare un'oretta e mezza dopo l'allenamento perché così diamo il tempo al corpo di bruciare un po' di grasso e lo spuntino, se dobbiamo perdere qualche chilo, sarebbe preferibile farlo con qualcosa di proteico, frutta secca, uno yogurt greco, 15-20 grammi di proteine in polvere, di sieroproteine, quindi qualcosa di proteico e non mangiarci casomai il panino dopo l'allenamento non avrebbe quasi senso, non ha senso. In quell'oretta però possiamo idratarci bevendo sicuramente acqua o magari degli integratori? Sicuramente, durante l'attività fisica e anche dopo idratarsi è la cosa più importante perché considera che già la perdita del 2% di peso in acqua riduce l'attività fisica, la forza del 30-40%, quindi idratare se è molto caldo con dei sali minerali, con del magnesio, del potassio, meglio ancora citrato di magnesio e potassio perché, è la parte migliore del magnesio e potassio, va a basificare l'acidità del corpo. Allora io me lo segno, citrato di magnesio. Casomai con delle piccole spot di creatine, tipo 50 mg di creatina, esistono dei prodotti tecnici e non il semplice, faccio un nome commerciale, Polaser che è fatto da magnesio e potassio e zucchero tra l'altro non ha proprio senso. Ci sono dei prodotti che costano uguali ma molto più tecnici. Molto bene, dottor Cusenza, io ti ringrazio per questa prima pillola in diretta dedicata alla sana alimentazione. Se potessimo approfittare in senso buono della tua disponibilità, a me farebbe molto piacere ritrovarti ogni martedì in studio. Questi dieci minuti sono molto importanti per aiutarci a vivere meglio perché dicevamo prima, la salute è un impegno quotidiano ed è uno sforzo che dobbiamo provare a fare tutti i giorni. Va bene, ci vedremo ogni martedì fin quanto ne avrai voglia. Un saluto a tutti e buona giornata a tutti. Grazie a dottor Cusenza, specialista in scienza dell'alimentazione. Abbiamo le prove, adesso abbiamo registrato, ci ha dato disponibilità, quindi lo ritroveremo martedì prossimo per parlare di altri argomenti collegati alla vita sana, alla sala alimentazione e alle diete corrette per stare bene e stare in forma. Via la regia! Grazie a tutti!